Di Maio, o troviamo lintesa con PD o si torna al voto? Serve uno sforzo, lavoriamo per la gente. Le differenze ci sono ma pensiamo al paese Luigi Di Maio, dopo lincontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dellaccordo con il PD, o si trova lintesa o si torna al voto. E, continua, abbiamo il 32, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa avere un reddito di cittadinanza che li consenta di integrare il loro reddito oppure che due forze politiche litighino per l'eternità? E, rivolto a Edema, abbiamo questa opportunità, se si riescono a fare le cose bene se no si torna al voto. Io però chiedo uno sforzo. Non si può chiedere al M5S di rinnegare le sue battaglie storiche. Poi conclude attaccando Silvio Berlusconi, bisogna mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c'è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velante minacce a Salvini. Grazie a tutti.